buongiorno e bentornati nel mio canale oggi andrò a utilizzare un barattolo di vetro seguitemi per vedere che cosa realizzerò ho lavato il barattolo in lavastoviglie che ha eliminato l'etichetta nonostante queste sono rimasti alcuni residui di colla per eliminarli ho preso la pistola d'aria calda se non l'avete potete utilizzare tranquillamente un fono ho preso uno straccio l'ho avvolto intorno al barattolo e scaldando con la pistola a caldo piano piano ho eliminato tutti i residui di colla per eliminare gli ultimi residui di colla ho passato il barattolo con un batuffolo imbevuto nell'alcol su una stoffa di peluche in questo caso io ho usato quella di colore rosa ho ritagliato e due sagome come quella in figura e le sono andate a cucire sul bordo lungo la linea verde ad eccezione della linea nera ho risvoltato la sagoma ho imbottito con un po di olatta per e imbottitura e sono andata a cucire anche la parte che ho lasciato non cucita ho ritagliato quattro sagome come quella in figura due sulla stoffa rosa e due su una stoffa in contrasto che nel mio caso è di colore bianco cominciamo a capire di cosa tratta bene seguitemi fino in fondo e lo vedremo ho risvoltato le sagome aiutandomi con una penna ho preso un ferro di filo quello per fioraio della lunghezza doppia rispetto alla lunghezza delle orecchie l'ho piegato a metà e ho avvolto l'estremità con uno scotch abbastanza resistente in realtà sarebbe meglio del nastro isolante di colore bianco o del nastro trasparente io non l'avevo e ho messo questo da imballaggio marrone l'ho inserito all'interno del mio orecchio e lo sono andata a fissare con un po di colla a caldo sulla parte posteriore quindi su quella di colore rosa questo ferro mi servirà per fare in modo che le mie orecchie possano liberamente muoversi ho ritagliato due sagome come quelle in figura e le sono andate a cucire lungo tutto il bordo lasciando solo la parte di sotto non cucita ho risvoltato la sagoma ho imbottito e ho chiuso anche la parte che avevo lasciato aperta ho preso del filo per uncinetto quindi abbastanza resistente e spesso e l'ho rotolato intorno alla parte centrale della mia sagoma ho fermato questo filo sulla parte posteriore con un paio di nodi posiziono il mio musetto al centro della testa e vado a inserire due spigli al di sopra di dove andrà incollato il musetto che saranno poi la posizione degli occhi inserisco un ago con del filo d'uncinetto alla base della testa dove c'è la cucitura e vado ad uscire in corrispondenza del primo spillo lascio un po di filo sotto quindi da qui sempre ripassando per lo stesso punto da dove sono entrata ritorno alla base dalla base questa volta andrò a riuscire in corrispondenza del secondo spillo quindi ritornerò alla base sempre passando per lo stesso punto e andrò a fermare le due estremità del filo quindi quello con cui sono entrata e quella con cui sono uscita tirando per bene in modo che si formino le fossette degli occhi con dei nodi sempre con un filo da uncinetto quindi spesso e resistente entriamo nella base e andiamo questa volta a fermare il filo riusciamo nel punto dove avevamo inserito dove avevamo fatto dei punti per il primo occhio infiliamo una perlina nel nostro ago e spostandoci leggermente rispetto al punto dove siamo entrati andiamo a riuscire alla base dalla base riusciamo nel punto dove avevamo fatto l'altra fossetta per gli occhi infiliamo un'altra perlina e andiamo a riuscire sulla base fermiamo il filo sulla base e i nostri occhi sono pronti mettiamo un po di colla lungo tutto il bordo della parte bianco del nostro musetto e l'andiamo ad incollare sulla parte rosa cuciamo le due orecchie e vi faccio solo vedere quando dovete fare l'ultimo punto come fare allora fate uscite da dol dal punto dove vi trovato nella parte opposto dove non c'è nulla nel mio caso nella parte di dietro della testa vedete come sto uscendo nella parte di dietro e tagliate il filo in maniera tale ovviamente questo dopo averlo fermato questo perché perché così il filo tagliato rimarrà all'interno della sagoma non ci resta che applicare il nostro musetto in plastica nella cui parte posteriore ho messo dei fili sempre per uncinetto di colore marrone che vanno a rappresentare i nostri baffi e la testa di che cosa adesso si capisce benissimo del mio coniglietto è pronta tagliamo una striscia dal nostro peluche con cui abbiamo fatto il coniglietto di circa 5 6 centimetri questo poi di altezza questo dipende dall'altezza del tappo del barattolo uguale alla circonferenza del tappo a cui ho aggiunto un paio di centimetri in più per la cucitura quindi vado a cucire sulla fine e vado a risvoltare la nostra stoffa la inserisco nel mio tappo e vado a fare una filza sulla parte superiore tiro bene questa filza vado a fermare e vado a fermare il filo fermiamo la nostra stoffa sul tappo del barattolo con un po di colla a caldo messa dal centro della filza metto un po di colla anche lungo tutto il bordo del tappo del barattolo taglio l'eccedenza risistemo il tappo sul barattolo e vado a sestimare eventuali punti non incollati bene metto anche un po di colla poi sulla parte interna del tappo in maniera tale che la la mia stoffa sia perfettamente all'interno di esso questo è il tappo foderato prendo una striscia di cotone alta 6 7 centimetri e lunga il doppio della circonferenza del barattolo vado ad incollare la parte inferiore con un po di colla a circa un centimetro dalla fine e vado a fare sulla parte superiore una filza tiro bene questa filza la posiziono sul barattolo e vado a cucire anche la parte finale una volta che ho cucito la parte finale di questa striscia la vado ad incollare sul tappo del mio barattolo con un po di colla a caldo sempre con un po di colla a caldo una volta che ho incollato questa striscia andrò ad incollare la tessa del mio simpatico coniglietto incollo anche tre bottoni in questo caso li ho scelto rosa sulla parte davanti e la mia barattolo portavetti è pronto se il mio video vi è piaciuto lasciatemi un like ed iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati grazie vi aspetto al prossimo progetto grazie